Direttore, mi stanno fregando i soldi dal mio conto corrente Non urli, venga qua! Chi è che le sta prendendo soldi? Ci sono tutti accessi non autorizzati sul mio conto Tutti addebiti verso un fornitore che neanche conosco È sicuramente una truffa informatica Ma perché? Quanto le hanno preso? Eh, siamo già a 9 euro in due ore Eccone in altro 90 centesimi per uno spazzolino da denti Vabbè, fammi controllare Noi questi mascalzoni della rete li abbiamo tutti in pugno Ecco qua, carta bloccata E ora procediamo alla revoca dei bonifici Ma perché si può fare? Ma certo! Lo posso fare io qua, ma lo può fare pure dal telefonino Lecca lecca, 1,50 Revocati Bonifico revoca Risma di carta Revocato 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 Ha visto? Senta, direttore, ma questi 9 euro che non mi hanno prelevato Voi mi irritate, sì? Ma certo che glieli irritiamo Il nostro istituto è la sua ancora di salvezza Lei se l'è cavata solo con 24 euro 24 euro di che? Di commissione Eh, 12 revoche So 12 operazioni 2 euro operazioni So 24 euro E poi Che Ciao E poi Grazie.